Ben trovati ad una nuova puntata di Belluno Economia. Arrivare ad un ambiente di lavoro sempre più inclusivo. Confindustria Belluno Dolomiti spinge perciò l'acceleratore sulla leva della formazione per migliorare le già apprezzabili performance della provincia dolomitica, una delle più industrializzate d'Italia nell'ambito della inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Ce ne parla il delegato per il sociale di Confindustria Belluno Flavio Mares. Sentiamo. Ha preso via la seconda edizione di questo corso di Disability Management. C'è stato chiesto da alcune aziende di replicarlo visto l'interesse che ha suscitato anche nei loro dipendenti nella passata edizione. A suo tempo c'era stato sollecitato dalle famiglie delle persone con disabilità in quanto i loro figli nel passaggio dalla protezione dell'ULS, quindi dalle cooperative sociali al mondo del lavoro, non sempre avevano avuto degli approcci positivi. Questo non per cattiveria ma perché il mondo del lavoro non è organizzato per ricevere persone con disabilità e quindi abbiamo pensato di proporre questo corso di Disability Management rivolto ai capi reparto, ai capi turno, alle persone che lavorano normalmente con dei colleghi un po' speciali e effettivamente abbiamo avuto dei riscontri positivi. Ecco, è un corso che diciamo come si sta articolando, che cosa andate a sviluppare, anche con che finalità comunque Confindustria fa questa azione? Sì, allora prima di tutto bisogna dire che normalmente le persone non conoscono il mondo della disabilità, il mondo della disabilità è veramente grande, parliamo di disabilità fisiche piuttosto che intellettive e all'interno di entrambi ci sono molte situazioni diverse variegate, quindi prima di tutto viene spiegato che cos'è la disabilità. Una volta fatto questo passaggio viene spiegato come affrontare le varie situazioni dal punto di vista operativo e dal punto di vista anche psicologico nei confronti delle persone che si sentono normalmente svantaggiate e che hanno una rivalsa nell'entrare nel mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro rappresenta anche una forma di normalità. Ecco, lei in apertura anche così nella presentazione comunque di questa iniziativa ha più volte ribadito che in un contesto territoriale particolare come quello della provincia di Belluno, anche il valore del capitale umano ha una sua specificità, è un valore aggiunto lei aveva detto, giusto? Eccoci, ci può spiegare meglio questo concetto? Dobbiamo partire dal presupposto che in provincia di Belluno la legge 68 che obbliga le aziende alle assunzioni di persone speciali viene rispettata per quasi il 70% dei casi, contro una media regionale del 55 e una media nazionale che è sotto il 30%. Quindi questo già ci dice qual è la nostra cultura di accoglienza. Noi possiamo fare di più, non solo accogliere ma anche seguire direttamente tutte queste persone proprio tramite un corso tipo quello che abbiamo organizzato. Questo diventa un valore aggiunto perché sia le persone, il capo turno, il capo reparto, che impara a conoscere il mondo della disabilità trasmetterà ai colleghi le stesse cose che ha imparato e quindi ci sarà una diffusione maggiore sul territorio di una cultura che accetta la persona un po' particolare. Il corso è svolto in collaborazione con gli esperti di Umana. Abbiamo parlato con i partecipanti di inserimenti lavorativi di persone con disabilità, cercando di sensibilizzarli sul tema e soprattutto dando degli spunti di riflessione anche rispetto alla comunicazione. Quindi la disabilità e la comunicazione che si incontrano per appunto agevolare gli inserimenti lavorativi e soprattutto l'inclusione lavorativa. Tante volte è proprio la percezione che abbiamo delle cose che ci permette di comunicare in modo adeguato o non adeguato e quindi di includere o di escludere. Attraverso una buona comunicazione che non riguarda chiaramente solamente la disabilità ma in realtà riguarda tutti, anche attenti alla prossemica, non solamente chiaramente al linguaggio verbale, possiamo appunto diventare inclusivi o desclusivi. Quando si tratta di disabilità ha maggior ragione, quindi parleremo sempre di lavoratore con disabilità banalmente piuttosto che di disabile. Prima è un lavoratore e con sé porta una limitazione legata alla disabilità. Altre cose importantissime rispetto appunto all'inclusività lavorativa sono anche un modo diverso di pensare che poi diventa un modo diverso di parlare. Per cui tante volte la barriera architettonica non è la scala ma è una barriera architettonica da un punto di vista psicologico, mentale e comunicativo. Quindi l'idea di oggi era chiaramente di dare degli spunti di riflessione e soprattutto anche degli strumenti pratici e tecnici rispetto a questa tematica che credo sia la base per un'inclusione lavorativa non solamente rispetto alla disabilità ma in realtà rispetto a tutto quello che è la diversità. Umana si è dotata di un'area specialistica, quindi ha delle persone dedicate alla ricerca e selezione di persone scritte al collocamento mirato che appunto hanno la preparazione per comprendere e capire le limitazioni e il potenziale lavorativo delle persone con disabilità. Diciamo che questa iniziativa comunque si inserisce all'interno di un progetto di più ampio respiro che Confindustria Belluno sta portando avanti, giusto? Assolutamente sì. Tre anni fa la Presidente, allora neoeletta, ha voluto che ci fosse una delega specifica per il sociale proprio per intercettare quei punti di debolezza che ci possono essere nella nostra provincia, portarle all'interno dell'associazione, dare evidenza e sensibilizzare le aziende e le persone. Questo appunto dimostra quanto è l'attenzione che Confindustria vuole dare all'argomento. Abbiamo affrontato ovviamente temi riconducibili al mondo del lavoro, l'inserimento delle persone svantaggiate, il portare fuori dalle aziende del lavoro sempre per persone svantaggiate che possono lavorare con le cooperative, ad esempio. Abbiamo dato supporto a un progetto della cooperativa Società Nuova in rete con altre cooperative sempre per fare formazione ai ragazzi per un futuro ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo dato supporto anche altre attività culturali che hanno sempre lo stesso fine, quello di favorire una diffusione della cultura, dell'accoglienza e un migliore inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro ma nella società generale ovviamente. Si conclude così anche questa nostra puntata di Belluno Economia. Io vi do appuntamento, ci rivediamo la prossima settimana. Arrivederci!